Credo che non prendere in affitto una voce che non è la tua, questo sia importante, poi la voce negli anni si modifica, bisogna saper fare i conti anche con queste modificazioni che avvengono, sfruttarle a tuo vantaggio. Va bene, vediamo quel solo di niente da capire a metà. Le stelle sono tante, milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette su una strada lucida, seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.